Il bene e il male, come molti della banda, siamo andati avanti, anche a volte con delle grosse difficoltà. Non c'è niente che non si possa riparare e non c'è il peggior momento che si possa risolvere. Allora, lo dico ai ragazzi della banda, una bella mossa, ci puliamo, magari viene anche meglio. Lo dico ai ragazzi che avevano bisogno, perché voglio leggerlo come un bisogno, di fare queste cose. Si può fare anche dell'altro, magari noi non siamo in grado di aiutarvi, però se ci parliamo, riusciamo, è una sfida. Proviamo a parlarci, proviamo a vedere dove noi possiamo darvi una mano. A spaccare non vi daremo mai una mano, ma magari a trovare una cosa che ci va bene anche a noi. Siamo stati ragazzi anche noi, vi dico che qualche stupidata l'abbiamo fatta anche noi. Dai, vediamoci e proviamo. È una sfida. Vediamo. Io sono Mario Pinazzi, voi lo sapete, ci conosciamo, fermatemi, fatevi dare i miei numeri dai siti. Io non ho problemi. Voi mi chiamate. Secondo me qualcosa di meglio riusciamo a fare.